siccome se devo uscire da casa dopo aver tutto il mio organismo percepisce la forza di gravità criticata come su giove io per farmi forza chiede all'armadillo oh ma vieni pure te non stiamo tanto noretta e poi torniamo e lui mi risponde si che vai con la macchina io te raggiungo col coso come si chiama il coso dai ah si te raggiungo col cazzo